Alla BCC Sangro Teatina il prestigioso premio Donato Menichella, il riconoscimento istituto alla memoria dello storico governatore della Banca d'Italia, che è stato consegnato venerdì 12 aprile a Roma. Insieme alla Banca di Credito Cooperativo, premiata per la sezione Cultura nella politica monetaria e creditizia, il riconoscimento è stato consegnato anche al Premier Giuseppe Conte. Il premio Donato Menichella è promosso dalla Fondazione Nuove Proposte Culturali, presieduta dall'Avvocato Elio Michele Greco. Giunto alla diciannovesima edizione intende onorare la memoria del governatore della Banca d'Italia. Il riconoscimento è stato ritirato da Vincenzo Pacchioli e Fabrizio Di Marco, rispettivamente Presidente e Direttore Generale BCC Sangro Teatina. Tra le motivazioni che hanno spinto la giuria a scegliere BCC Sangro Teatina, la capacità di resistere e sopravvivere con slancio alle forti crisi bancarie che hanno colpito Abruzzo e Molise, rimaste senza alcuna banca territoriale. L'importanza del riconoscimento è stata così grande perché è un premio che forse ci riconosce l'attività svolta da quando questa banca è stata istituita, per volontà di un sacerdote, Don Epipegno Giannico, e che quest'anno a maggio compie 116 anni. È una banca che sorta per allentare la morsa dell'usura quando venne costituita e successivamente svolge la sua attività in forma di cooperativa. Molti amano definire queste banche banche del territorio, io invece amo definire le banche di comunità perché basano la loro attività soprattutto sulla relazione con i clienti, con i soci. E perché a differenza di quelle che sono le banche di prossimità che hanno solo la sede magari su dei territori, noi aggiungiamo a questo il fatto di essere una cooperativa e quindi di ridistribuire in qualche modo l'utile che produciamo sul territorio, avere fornitori che sono del territorio, avere imprenditori che vengono finanziati che sono del territorio, diciamo che avere dipendenti, avere amministratori che sono comunque del territorio e quindi questa intermediazione diciamo così avviene più agevolmente. Spieghiamo ai telespettatori che cos'è il premio Donato Menichella e perché vi è stato assegnato. Il premio Donato Menichella è un premio che viene dato ogni anno a un accademico, quindi del mondo dell'Accademia. Quest'anno è stato il Premier Conte a ricevere questo premio a delle banche che sono banche locali e ad imprenditori che si sono distinti nella loro attività. Però parliamo sempre diciamo di imprenditoria, di piccoli imprenditori oppure di piccole banche, ecco perché noi siamo state selezionate diciamo per ricevere questo premio. E anche il Premier Conte nel suo discorso ha sottolineato l'importanza del localismo bancario, dell'attività svolta dalle banche locali. Eh sì perché il problema che si pone è che quando sul territorio non ci sono intermediari finanziari, non ci sono banche che sono locali, quelli che sono e che potrebbero essere di clientela marginale diciamo così non vengono presi in considerazione dai grandi istituti. Quindi noi siamo contenti di poter svolgere questa attività a servizio delle comunità e ci siamo ritagliati diciamo un ruolo anche abbastanza importante perché comunque facciamo parte della infrastrutturazione finanziaria che esiste in questo paese. Gli obiettivi futuri della nostra realtà sono quelli di superare e di vincere una sfida molto importante perché adesso le banche grandi diciamo sono tutte concentrate sullo sviluppo della tecnologia, nelle attività diciamo di finanziamento e di impiego bancarie. Ci sono altri player che non fanno parte del mondo bancario, mi riferisco a tutte queste grandi società che fanno commercio sulla rete. Però noi dobbiamo essere bravi di cercare di conservare questa relazione che sarebbe comunque molto importante con i soci, con lo sviluppo della tecnologia. Illustre Presidente Greco, caro Avvocato Iosa, illustre autorità, vedo anche molti parlamentari, signore e signori, e con emozione e con gratitudine che ricevo questo premio, un premio che non solo è importante ma è per me anche ricco di significato perché evoca la figura di Donato Menichella, una figura che ho sempre riguardato con simpatia. Sto parlando di un conterraneo, la provincia di Foggia è una provincia con piccoli paesini, quindi non è facile trovare qualche persona che abbia assunto una tale notorietà a livello nazionale e non solo. Ma permettetemi anche di dire che è una figura che ha suscitato sempre ai miei occhi un fascino particolare perché mi ha sempre colpito il fatto che abbia esercitato le sue attività presso le istituzioni con un rigore estremo, rigore anche etico vorrei dire estremo, facendo della sobrietà il centro della sua virtù. E quando dico sobrietà intendo sobrietà secondo un'accezione lata, coinvolge quindi la parsimonia nella condotta, la cribia nel dire, la sobrietà linguistica, la sobrietà nell'agire. Grazie davvero per questo onore. Come abbiamo concordato dedico il mio intervento al tema del localismo bancario, un tema che direi di estrema attualità, perché il nostro sistema bancario, soprattutto quello locale, sta affrontando una sfida storica e nel pieno di una fase evolutiva, il cui buon fine è essenziale per l'efficienza e l'operatività dell'intero settore, ma anche per il destino di tante piccole imprese, famiglie e risparmiatori, che poi sono il nerbo della nostra economia. Menichella ha colto in pieno l'importanza delle banche locali. Per inquadrare infatti il ruolo che l'illustre economista attribuiva alle banche, soprattutto a quelle locali, va sottolineato che egli fu un grande promotore dello sviluppo economico, peraltro come molti altri banchieri centrali italiani. Tutto nella sua visione è stato incentrato e subordinato allo sviluppo economico. Del resto, direi, in quegli anni, tanto nella politica, tanto nell'economia, nel quindicennio in particolare che aveva seguito la fine della Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo era il tema più discusso, più esplorato, era il centro del dibattito pubblico e della medesima riflessione scientifica. Tutto il resto era una conseguenza, quindi sia che si ragionasse di politica monetaria, di politica bancaria, industriale, addirittura doganale. Erano tutte declinazioni intese della politica dello sviluppo. E tutte dovevano concorrere in quegli anni a ridurre lo iato, la distanza tra l'Italia e gli altri paesi più avanzati. Come tutti, Menichella rivolse un'attenzione particolare agli investimenti e manifestò una certa tendenza a valutare con favore un contenimento dei consumi. Questa cultura economica contribuì non poco, mi sentirei di riassumere, al mantenimento dei tassi di investimento intorno al 20% e a orientare l'azione dei banchieri centrali allo scopo di reperire le risorse finanziarie necessarie ovviamente per realizzare un adeguato cospicuo piano di investimenti. E' in questo contesto storico-economico che occorre quindi collocare la riflessione sul localismo bancario, secondo Menichella ovviamente. Lo sviluppo doveva realizzarsi in questa prospettiva su tutto il territorio del Paese, da nord a sud, nelle grandi aree industriali e nei territori anche meno densamente popolati. Doveva essere quindi uno sviluppo bilanciato e lui poneva molta attenzione a questo. Ecco dunque emergere la funzione della banca che consiste certo in primo luogo nell'educazione al risparmio e nella difesa del risparmio, come anche recita la nostra Carta Costituzionale, un risparmio che deve essere incoraggiato e tutelato in tutte le sue forme. E ricordo anche le famose giornate del risparmio che furono inaugurate proprio in quegli anni, come pure la distribuzione di cassette salvadanaio collegate ai conti di deposito. In secondo luogo, la banca intesa come strumento per finanziare le imprese, piccole e grandi, in particolare la banca locale, è più adatta a fornire credito alle piccole iniziative locali perché i suoi gestori conoscono il territorio, le attività che vi si svolgono, possono avere con i propri clienti un contatto scevro dai formalismi di una grande banca che per certi versi intimidiscono la clientela, soprattutto i cittadini che non hanno un'adeguata formazione, non sono provvisti di una adeguata educazione economica, giuridica. Da questo approccio discendevano due corollari. Il primo era la tendenza a privilegiare le banche locali nella distribuzione delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi sportelli e il secondo era il favor per l'impiego in loco del risparmio raccolto. Peraltro questo aspetto sfociava in un vero e proprio veto del mercato interbancario che poi fu superato solo a partire agli anni Sessanta da Guido Carli. Certamente l'approccio di Menichella predirigeva la stabilità del sistema piuttosto che la concorrenza bancaria anche se egli si preoccupava anche del profilo della competizione bancaria. Da lui assunta però nell'angolo visuale un po' ristretto lui ragionava di pluralità bancaria se non ti finanzia in una banca ti è consentito andare presso un'altra banca. Ma se la concorrenza bancaria non era al primo posto questo assetto che oggi potremmo definire frammentato del sistema bancario aveva il fine però questo sì di promuovere la concorrenza nell'industria. Infatti una pluralità di banche anche a livello locale avrebbe permesso la crescita di un tessuto industriale ricco variegato e quindi conseguentemente avrebbe favorito la competizione fra imprese di tutte le tipologie di tutte le dimensioni di imprese. Lo straordinario successo industriale italiano negli anni del boom economico mostra che questo approccio in quel periodo ebbe un certo successo. Non si trattava lo voglio sottolineare di difendere il piccolo in quanto tale ma di promuovere la crescita del piccolo affinché potesse diventare come poi molte volte è accaduto medio o addirittura grande. Si tratta a mio avviso di un obiettivo meritevole di essere perseguito anche al tempo attuale. Oggi come allora infatti le banche locali pur in un contesto profondamente mutato hanno un ruolo importante da svolgere. Il sistema produttivo italiano infatti è ancora imperniato sulle piccole e medie imprese ed è molto dipendente dal credito bancario. Oggi come allora la piccola banca locale è capace di instaurare un rapporto personale con i propri clienti ne ha una conoscenza diretta e questo si riverbere evidentemente positivamente anche sul piano del merito creditizio perché questo significa poter fornire delle valutazioni più accurate e più personalizzate. Proprio grazie a questo rapporto di reciproca fiducia tra piccole banche e piccole imprese è stato possibile anche assistere all'espansione dei distretti industriali alla quale si è affiancato uno sviluppo industriale diffuso sul territorio e se noi oggi siamo la seconda industria manifatturiera in Europa dopo la Germania lo dobbiamo anche a questo sviluppo e a questo radicamento territoriale. Naturalmente il mondo sta cambiando sta marciando a grande velocità la crisi finanziaria e quella dell'economia reale che ne è stata la conseguenza hanno messo a dura prova questo modello di business delle banche locali. La crisi dell'economia reale è inciso profondamente sui bilanci di tanti piccoli istituti locali in ragione della loro natura di banche commerciali per eccellenza. La concentrazione dei prestiti in ambiti locali illimitati spesso specializzati in alcuni settori dell'economia ha reso più ardua la diversificazione del rischio e più acute le conseguenze di crisi di settore con particolare riguardo al settore immobiliare. Per le piccole banche lo smaltimento delle poste deteriorate è stato più lento e in alcuni casi più costoso a causa delle difficoltà riscontrate nella gestione dell'enorme volume delle insolvenze. La carenza di assetti organizzativi adeguati a volte a volte anche di database completi dettagliati ha rallentato i tempi di cessione oltre a ridurre i prezzi e i tassi di recupero. Eppure la piccola dimensione di per sé non è necessariamente un elemento di fragilità. Alcuni studi dimostrano anzi che negli anni più duri della crisi finanziaria il mondo del credito cooperativo ha svolto una importante funzione anticiclica conservando in media un buon livello di patrimonializzazione e in alcuni casi addirittura superiore a quello delle banche di sistema. Le piccole banche infatti hanno continuato a erogare prestiti alle piccole imprese proprio negli anni in cui il sistema bancario in generale operava una stretta creditizia dovuta al clima ovviamente di profonda incertezza. Hanno anche protetto le banche piccole molti posti di lavoro negli sportelli territoriali in un contesto in cui l'intero settore ha affrontato una grave perniciosa crisi occupazionale. Secondo alcuni studi pubblicati da Federcasse infatti per ogni 100 euro raccolti sul territorio le banche di credito cooperativo ne hanno impiegato in media 85. Di questi 81 sono stati reinvestiti direttamente sullo stesso territorio dal quale si originava la ricchezza. La tutela della diversità bancaria quindi è una ricchezza anche in un mondo che necessita di efficienza di innovazione tecnologica in un contesto di competizione globale. Fabrizio Di Marco direttore BCC Sangro Teatina ci racconta la storia di questo istituto di che era dito che è una storia molto antica che risale al 1903 giusto? Esattamente la nostra storia inizia nel 1903 per opera di un sacerdote Don Epimenio Giannico ad Atessa insieme ad altri tre sacerdoti ideò questa istituzione proprio per combattere l'usura all'epoca e anche a seguito delle sollecitazioni della Chiesa della dottrina sociale della Chiesa di Leone XIII che appunto è la enciclica Rerum Novarum e da lì partì tutto questo viaggio in qualche modo che a noi oggi tocca con grande piacere custodire ma anche sviluppare all'epoca non c'erano i mezzi tecnologici di oggi quindi i sacerdoti che viaggiavano e che si recavano i congressi eucaristici come Don Epimenio fece andò in Veneto e lì osservò e notò questa esperienza delle banche locali tant'è che le prime casse rurali perché allora si chiamavano così nacquero nel Veneto la prima infatti fu all'Oreggia e probabilmente da quell'esperienza Don Epimenio prese spunto per costituirne una anche nella città di Atessa Atessa in provincia di Chieti come sappiamo è una città una bellissima città di 10.000 abitanti e oggi è la sede ancora oggi la sede legale della banca di credito cooperativo Sangro Teatina che opera non solo ovviamente nel territorio a Tessano ma opera in due regioni Abruzzo e Molise con 16 filiali 5 in Molise e 11 in provincia di Chieti quindi ha un carattere prettamente locale un carattere dedito allo sviluppo dell'economia locale tant'è che come si diceva come anche il Premier ha ricordato nel suo intervento le banche di credito cooperativo e quindi la BCC Sangro Teatina fa questo ormai da 116 anni il 3 maggio il compleanno rinveste tutti i risparmi per la maggior parte per il 95% dei risparmi che raccoglie sul territorio li rinveste sul territorio quindi non investe questi denari questo sudore della nostra gente nei mercati internazionali arricchendo altri popoli lontani da noi ma rinvestendoli sul nostro territorio il lievito rimane da noi e quindi l'economia si sviluppa da noi la nostra tipologia di banche non fa grandi finanziamenti a grandi imprese perché è una banca rivolta soprattutto a famiglie e a piccole e medie imprese quindi da noi vige questa regola che è il poco a tanti e non il tanto a pochi ed è molto importante questo ci ha consentito in questo decennio di crisi di essere ancora qui perché come sappiamo in Abruzzo molte banche locali oggi non esistono più quindi solo le banche di credito cooperativo sono le uniche banche locali rimaste sul territorio e la BCC San Grotiatina è la più antica come dicevamo perché è nata nel 1903 ecco che oggi è stata premiata qui a Roma con il premio Donato Menichella e tra l'altro anche il premier Conte ha ricevuto questo premio e ha parlato proprio dell'importanza del localismo bancario esattamente perché la banca locale conosce la sua gente quindi è da una parte più facilitata perché conosce la storia delle persone conosce il territorio e quindi gli interventi vengono effettuati senza passare per le trafile di Roma Napoli o Torino voglio dire la sede centrale della banca nel nostro caso è ad Atessa c'è un consiglio di amministrazione giuridicamente è una istituzione con un consiglio di amministrazione con un collegio sindacale quindi tutte le decisioni non vengono delegate altrove ma vengono prese sul territorio e quindi in maniera molto più consapevole premio donato Menichella sicuramente una grandissima soddisfazione essere qui insieme anche al premio racconta insomma certamente un grande onore di aver ricevuto questo premio anche in memoria di questo governatore che un po' ci accomuna perché la nostra banca appunto come diceva era stata fondata da un sacerdote e il primo nome della banca era Cassa Depositi Cassa Rurale di Depositi e Prestiti San Francesco d'Assisi quindi dedicata a San Francesco perché questo curato questo parroco della parrocchia di Santa Croce in Atessa infatti la banca nacque proprio nella sagrestia della chiesa di Santa Croce aveva proprio questo spirito seguiva l'insegnamento francescano e quindi anche Menichella se si va un po' a vedere la sua biografia Menichella che è stato un grande governatore della Banca d'Italia dal 48 al 60 prima ancora è stato direttore generale della Banca d'Italia quando era governatore in Audi stato presidente dell'Iri un personaggio che ha dedicato tutta la sua vita riducendosi anche lo stipendio la pensione perché lui era fatto così veramente con spirito francescano quindi in qualche modo ci accomuna questa figura e ne siamo veramente orgogliosi di aver ricevuto questo premio insieme a chiaramente un lavoro di squadra con tutto il consiglio di amministrazione con tutto il personale prezioso i miei preziosi collaboratori che dedicano anima e corpo nella gestione di questa istituzione ormai che ha più di 116 anni proprio per essere vicini al nostro amato territorio che è l'Abruzzo che è una regione bellissima oggi però dal 2010 non oggi abbiamo questa operatività anche nel Molise quindi abbiamo questa operatività in Abruzzo e Molise e in fondo noi abruzzese e molisani insomma abbiamo la stessa cultura una volta un tempo eravamo insieme quindi oggi come banca lo siamo ancora più di prima ecco quali sono le novità della vostra banca se ci sono le novità ci sono perché c'è stata una riforma la riforma del credito cooperativo che in qualche modo obbligano le banche di credito cooperativo ad aderire ad una holding ad una holding in Italia se ne sono costituite due di holding ma è una holding un po' particolare cioè non è la holding proprietaria delle banche ma sono le banche ad essere proprietarie della holding quindi una holding rovesciata e questa riforma voluta tant'è che il premier ha accennato il premier Conte nella sua relazione appunto di questa riforma ci aiuterà un po' più tutti perché ci saranno le economie di scala saremo più organizzati da un punto di vista tecnologico perché appunto si potranno fare degli investimenti tutti insieme e in Italia se ne sono state costituite due holding anzi tre per la precisione una nella provincia di Bolzano ma è una holding della provincia autonoma di Bolzano molto localizzata e poi due holding nazionali una a Roma che è l'ICREA di Roma che è il vecchio istituto di secondo livello che c'era e che offriva i servizi a tutte le banche di credito cooperativo italiane e poi c'è Cassa Centrale Banca di Trento Credito Cooperativo Italiano e un'altra holding noi abbiamo aderito alla holding trentina anche perché ci lega ha una lunga storia da oltre trent'anni con i sistemi informatici con i servizi che abbiamo sempre condiviso con Trento quindi abbiamo in qualche modo questo legame anche un po' di collaborazione ormai consolidata e poi c'è anche da dire che insomma la cooperazione trentina dalla cooperazione trentina si impara davvero tanto anche perché loro con la cooperazione sono riusciti a fare veramente di tutto su ogni settore e con la costituzione della holding che abbiamo costituito appunto scusate il bisticcio di parole dal primo di gennaio di quest'anno siamo il primo gruppo bancario italiano in assoluto per solidità patrimoniale e non è poco quindi diciamo il primo gruppo bancario non solo il credito cooperativo il primo gruppo bancario quindi per solidità patrimoniale con 1500 sportelli in tutta Italia e in tutte le regioni d'Italia ci sono le BCC che ne sono ad oggi 84 che hanno aderito alla Cassa Centrale Trento altre banche hanno fatto l'altra scelta di aderire all'istituto di credito all'istituto centrale delle credito cooperativo che era a Roma che si chiama Icrea e che hanno chiaramente la stessa vocazione nostra ma con una holding diversa quindi la novità è proprio che ci sarà questa appartenenza a questo gruppo dove il gruppo avrà anche compiti di controllo presso le banche e le banche saranno comunque autonome ma in base agli indici se la banca è in salute o meno e quindi la nostra oggi è stata premiata quindi è inutile dirlo che i nostri indici sono perfetti sono diciamo indici a posto nonostante la crisi insomma siamo riusciti a mantenerli a mantenere questa solidità patrimoniale e questo è sicuramente un bene prezioso per la nostra comunità per il nostro territorio e quindi per le piccole imprese e per le famiglie i servizi ormai i nostri servizi tutte le nostre filiali non hanno più lo sportello frontale ma noi accogliamo le persone in piccoli studi dove non ci sono più i cassieri ma le assistenti e la clientela e quindi le nostre banche le nostre filiali non sono più un po' grigie come al solito con lo sportello frontale ma con un po' diciamo con i colori un po' a casa anche perché la banca diventa sempre più un consulente che un un operatore che fa operazioni diciamo di routine anche perché appunto con lo sviluppo di internet banking con le app le operazioni vengono sempre più fatte con la tecnologia adesso penso in autunno inaugureremo una filiale storica non è una nuova apertura e in questa filiale che si trova nella zona industriale nella zona industriale più grande del centro sud che è appunto la Val di Sangro inaugureremo una filiale con un servizio un po' innovativo dove ci sarà il bancomat drive-in e la banca drive-in ovvero la macchina la persona il cliente potrà fare il suo prelievo dalla macchina sul bancomat senza scendere senza fare nemmeno due passi quindi sarà molto più comodo ma è un servizio pensato per quella zona perché nella zona industriale di Piazzano c'è appunto come sapete la Sevel la Onda la Valagro insomma ci sono tante aziende quindi circa 12 mila addetti e quindi il passaggio di macchine quando si esce dal lavoro può essere un servizio molto comodo per le persone che utilizzeranno appunto questo servizio perché senza scendere dalla macchina potranno fare il loro prelievo inoltre ci sarà lo sportello con l'operatore che opererà normalmente con la persona che vorrà fare un'operazione bancaria dalla macchina senza entrare negli sportelli della banca di Piazzano di Piazzano